Dal 26 giugno a 7 luglio 2017, da lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 12.30 presso lo stadio comunale di Nuova Feltea scatta il primo Nova Camp, il primo camp estivo per ragazzi e ragazze dai 5 ai 13 anni, dai primi calci agli aspiranti calciatori attraverso pratica e conoscenza dello sport chiamato calcio. Gli istruttori saranno Massimo Zanini, allenatore FGC, Jacopo Flenghi, allenatore settore giovanier Nuova Feltea Calcio, Gabriele Raffaelli, giocatore allenatore settore giovanier Nuova Feltea Calcio, Tommaso Raffaelli, calciatore Nuova Feltea Calcio, Michelle Cola, calciatrice federazione San Marino e Mattia Stefanelli, giocatore Nuova Felte nazionale sanmarinese. Quota di iscrizione pari a 110 euro più 15 d'assicurazione. La quota di iscrizione prevede assicurazione, istruttori, partecipazione alle attività collaterali e kit omaggio IOMA. Per l'iscrizione e ottenere il kit omaggio i genitori devono fornire certificato medico valido per il 2017 e ritirare la brochure per compilare modulo adessione camp e ritiro kit. Le adessioni devono avvenire entro e non oltre il 5 giugno, speciale inserimento merenda sana a cura di Conad Nuova Feltea. Per info chiama Lisa e Stefano o su Facebook Nuova Feltea Calcio o visnuvafeltecalcio.gmail.com. Affrettatevi, Nuova Camp vi aspetta, dopo tutto i grandi sogni iniziano da piccoli.